Grazie, Presidente. La revisione del regolamento sulla spedizione dei rifiuti rappresenta un'importante legislazione per tutelare sia l'ambiente che garantire la salute umana, ma al tempo stesso ha enormi potenzialità per accelerare la transizione dell'Unione verso l'economia circolare. Il trasporto di rifiuti è, infatti, un'attività che necessita però di regole chiare e di controlli adeguati. Ancora oggi, purtroppo, tra il 15 e il 30% delle spedizioni avviene in maniera illegale, un dato del tutto inaccettabile a cui questo regolamento cerca di porre rimedio. Ci ricordiamo bene come la decisione della Cina di non accettare più rifiuti plastici abbia avuto forti ripercussioni sulla nostra capacità di una loro corretta gestione. Ecco, il testo adottato in Envi, che prevede una graduale limitazione al loro export, vuole che questo non avvenga di nuovo. si pone, invece, l'obiettivo di creare un volano, sia per la progettazione di prodotti maggiormente sostenibili che per un ulteriore sviluppo della nostra capacità di riciclaggio. Esportare i nostri rifiuti verso i Paesi del Terzo Mondo non può e non deve più essere la soluzione, ma si deve puntare senza ritardo sull'economia circolare. E questo regolamento è un deciso passo avanti. Grazie.